Troppe barriere architettoniche nelle strutture sanitarie. Il Consiglio Comunale di Castel di Sangro chiede lo spostamento in un altro locale. In particolare, è stato rappresentato alla dirigenza dell'azienda sanitaria lo stato di grave disagio a carico dell'utenza, costretta a raggiungere i vari presidi situati in diversi quartieri, come il centro di salute mentale, il distretto sanitario, ambulatori, l'ufficio di igiene e prevenzione. Intanto è un tema che noi abbiamo rappresentato alla ASL già da tempo, ovvero la frammentazione di tanti uffici e presidi sanitari disseminati per la città, presidi importanti dal CIM al distretto sanitario, ambulatori, che sostanzialmente sono posti in immobili in parte locati e in parte di proprietà comunale. Noi abbiamo sostanzialmente rappresentato all'ASL l'esigenza non solo di accorpare in due punti questo tipo di situazione, ma soprattutto abbiamo rappresentato all'ASL che questi immobili sono inadeguati da un punto di vista strutturale, ovvero sono muniti tutti di barriere architettoniche. Dico tutti perché quasi tutti hanno questo tipo di ostacolo e sono presidi ovviamente che devono invece avere la massima accessibilità e la massima capacità proprio di essere sostanzialmente attinti dagli utenti. L'amministrazione comunale ha proposto un fabbricato realizzato in prossimità del pronto soccorso, costituito da una superficie di circa 300 metri quadri, già destinato ad ospitare il distretto sanitario di base, usato recentemente come pre-triage. Noi abbiamo rappresentato da prima verbalmente, io per primo ho detto all'ASL che era necessario procedere in questa direzione, soprattutto perché quei presidi che erano stati allestiti per l'emergenza Covid-19 oramai non servono più, quindi sono stati sostanzialmente smantellati, dismessi, ma non smantellati, forse è meglio dire così, e quindi era opportuno farlo. Poi abbiamo rappresentato con nota già di giugno questo tipo di esigenze e da ultimo il Consiglio Comunale si è pronunciato affinché la massima assiste del Comune, in data 14 luglio, ha deliberato una sorta di ordine del giorno perché l'ASL prendesse in considerazione questa esigenza. Noi vorremmo che almeno a principi settembre questo trasloco, questo trasferimento avvenisse, perché insomma quelle che sono ovviamente le criticità accentuatissime in alcuni casi degli uffici e dei presidi sanitari possono essere davvero archiviati con delle soluzioni veramente adeguate e anche moderne se vogliamo.